Il dialogo nazionale tripartito è un punto specifico di Mn. Glamber Cruz, il tema di lavoro. E' quello che sta bene, mi ha messo di un nuovo update di oggi, lo che non sta facendo, è un altro terreno, ma non è un dialogo nazionale. Ma riparà con il sindicato, non è il sindicato, non è il nostro gremio, non è un punto specifico per il nostro gremio. Per esempio, ora come si sta con il sindicato di hospital, con il nostro ministro, per me da papi città, per me con il 3D tour, per me da tutta che ci sono stati con varii temi specifici di salubrità. Quindi, in ogni sindicato, mi voglio atteggiare il tema più urgente, perché non è il nostro gremio, ma non è un tempo, ma non è un attenzione, 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 ma non è un dialogo nazionale, ma non è un tema grande di comunità. Ma non è un attenzione, 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 per me, per me, per me, per me, per me, per me, ma nemmas urgente, già è ponente urgente junto, per un dialogo di livello masso nazionale. Per un dialogo ripartito, mi trovo il PD-Minister Glamber Cruz per donare informazioni per se.